Per le prossime elezioni regionali la sfida più importante sarà quella di riuscire a portare le persone al voto, quindi fronteggiare l'astensionismo. Penso che il dato più importante che emerga dalle elezioni siciliane sia proprio questo, vedere che più della metà del corpo elettorale non si reca nemmeno alle urne per appoggiare il movimento in questo momento, incarna maggiormente la protesta, cioè Grillo, penso che sia abbastanza inquietante. Il primo passo che le forze politiche responsabili devono fare non è tanto quello di pensare a vincere le elezioni, ma comunque a convincere coloro che poi si prefigono di rappresentare a recarsi le urne, ad esprimere la propria preferenza. E invece il rapporto Lega-PDL, nel PDL si torna a parlare anche di Berlusconi, insomma la situazione non deve essere nemmeno così chiara. La situazione mi sembra tutt'altro che chiara. Io penso che il PDL abbia bisogno di correre in questi mesi per darsi una definizione un po' più chiara rispetto alla situazione nella quale siamo adesso. Magari se facesse quello che ha fatto la Lega negli scorsi mesi, con tutta una serie di rivisitazioni interne, sarebbe opportuno e sarebbe poi anche più facile ragionare in termini di possibili alleanze, indipendentemente comunque da quello che ho l'intenzione di fare il PDL. Noi come Lega siamo già pronti, abbiamo un nostro candidato governatore della Lombardia che è Roberto Maroni. Aspettiamo soltanto che qualcuno ci dica la data delle elezioni che auspichiamo. possa essere lo stesso giorno delle politiche anche per risparmiare 50 milioni di euro che oggi sono importanti. In ogni caso, anche se si dovesse andare a votare a fine gennaio, noi siamo pronti con il nostro candidato governatore, siamo pronti anche a fare le liste e il programma. Grazie.